Terminator Implacabile macchina da guerra venuta dal futuro Sono un organismo cibermedico, tessuto vivente su endoscheletro metallico Programmato per proteggere John Connor Futuro capo della resistenza Fidati di lui Niente di umano può fermare la sua missione Niente, tranne un killer ancora più perfetto Un T-1000 Programmato per uccidere Arnold Schwarzenegger Terminator 2 Il giorno del giudizio Prima TV lunedì 20.40 Canale 5